Dopo 15 anni dalla soppressione del vecchio passaggio a livello di Pestum, il comune capaccese realizzerà il tanto atteso sottopasso. La chiusura del passaggio a livello creò tanti disagi ai cittadini capaccesi, soprattutto quelli che risiedevano nella parte est della città, ma ora l'amministrazione Alfieri, grazie ad un ingente finanziamento della regione Campania, realizzerà quest'opera pubblica tanto richiesta e necessaria per la popolazione. Era dal 2013 dice che l'amministrazione studiava possibili soluzioni al fine di ripristinare i collegamenti da est a ovest, ma solo nel giugno di quest'anno è stato deliberato un atto di indirizzo con lo scopo di individuare la soluzione tecnica ed economica più idonea per la realizzazione del sottopasso. Mentre nel settembre, sempre di quest'anno, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ora l'amministrazione ha approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica che vedrà un importo complessivo di 7 milioni di cui circa 4 milioni e mezzo per i lavori e 2 milioni e mezzo a disposizione della stazione appaltante per varie spese. La giunta comunale ha votato in modo favorevole all'unanimità e la delibera è stata resa immediatamente eseguibile. Ora sarà compito del sindaco Alfieri e dell'area lavori pubblici di ottenere il finanziamento e di adempiere a tutto il necessario per la realizzazione del sottopasso.